Il maestro Daniele Bononcini, direttore artistico della Cappella musicale del Duomo di Modena, ha presentato i concerti di primavera che si terranno proprio all'interno della cattedrale l'8 marzo, il 1 aprile e il 10 maggio. Abbiamo la scuola gregoriana Benedetto XVI in marzo, la Passione II Matteo di Bach in aprile e la Cappella Marciana della Bosnia di San Marco di Venezia in maggio che concluderà la stagione. Il filo conduttore di questi concerti è la coralità, l'esperienza corale. Che cosa dà il Duomo? Il Duomo, a parte una cornice incredibile che abbiamo l'onore e il privilegio di avere, come cappella musicale, ha una caratteristica per la musica vocale, per la musica corale, ha un'acustica speciale. Nel concerto di Pasqua la Cappella musicale è il protagonista, assieme però anche ad altre realtà che lavorano in sinergia con la Cappella musicale oppure che sono nate all'interno della Cappella musicale. Allora avremo, in rappresentanza della Cappella musicale stessa, in particolar modo i Pueri Cantores e i Juvenes Cantores, ma avremo anche il coro dell'Istituto Dio Cesano di Musica Sacra, che lavora in sinergia con la Cappella musicale, e poi avremo un ensemble, che si chiama ensemble Coranto, costituito da ex Pueri Cantores della Cattedrale, cioè ex bambini che hanno iniziato a muovere i primi passi in Cappella musicale 15-20 anni fa e che in Cappella musicale hanno scoperto la loro vocazione al canto, l'hanno sviluppata, hanno fatto degli studi approfonditi, sono diventati oggi dei professionisti della musica e oggi collaboriamo assieme alla pari, diciamo così. Quali sono le altre attività della Cappella musicale? La principale attività della Cappella musicale del Duomo è quella della liturgia, sin dal 1453 quando fu istituita. E per questo motivo noi curiamo circa 350 messe celebrate in Cattedrale all'anno, in particolare le messe presidute dall'Arcivescovo, presidute dal Capitolo del Duomo, e abbiamo varie tipologie di servizio, c'è il servizio solo organistico con il cantore guido, oppure con la scuola gregoriana, oppure con la scuola polifonica, con il coro dei giovani, insomma varie tipologie di servizio, ma questo è comunque il principale scopo per cui è nata la Cappella musicale. Musica Musica Musica